ciao a tutti e benvenuti al canale youtube delle due torri io sono mauro casadei fide trainer e continuiamo a andare a vedere le varie sfumature con cui si possono applicare i temi i motivi tattici elementari che stiamo affrontando in questa serie di video che la scuola elementare di tattica mi ricordo che finora abbiamo fatto fondamentalmente attacchi doppi forchette di vario tipo infilate e inchiodature e andiamo a vedere l'applicazione di questi motivi tattici nelle partite concrete nelle occasioni dove possono capitare e la fase più giocata di tutte è quella iniziale cioè l'apertura andiamo a vedere come si possono manifestare e vedere i motivi tattici più frequenti nelle aperture e quindi ricominciamo anzi continuiamo il percorso che abbiamo iniziato nel video scorso andiamo a vedere in una delle aperture più giocate e anche il cui nome più suggestivo quello della difesa siciliana andiamo a vedere in una variante minore della difesa siciliana un trucco tattico un trucco tattico che ci permette di creare una forchetta allora vediamo il bianco gioca e4 il nero gioca c5 il nero con la mossa c5 sta lottando per il centro lottando contro l'occupazione immediata da parte del bianco che formerebbe un centro di pedoni molto potente quindi questo pedone combatte questo bene andiamo avanti cavallo f3 cavallo in c6 il bianco spinge quando il bianco spinge rinuncia a portare qui al centro un pedone ma si accontenta tra virgolette di portarci un pezzo formando quello che io chiamo in forma colloquiale un centro misto un centro misto è un pedone e un pezzo un pezzo che è posizionato al centro è più potente che si è posizionato lateralmente tanto è vero che nel anche nella siciliana un cavallo in d4 molto spesso è un ottimo pezzo naturalmente quando portiamo un pezzo al centro dobbiamo anche assicurarci di non farcelo mangiare gratis o che non ci sia una sequenza di cambi sfavorevoli a noi ma questo è un altro argomento il nero spinge questo pedone in s e ricordiamo che il nero per cercare di svilupparsi dovrà far uscire uno dei due alfieri fin tanto che questo pedone e questo pedone sono qui entrambi gli alfieri sono bloccati il bianco invece ha tutti e due gli alfieri che sono liberi di uscire quindi questo dal punto di vista di quello che viene chiamato sviluppo è un vantaggio del bianco quindi il nero apre la strada per uno dei due alfieri il bianco porta un cavallo in campo normalissimo il nero mette un pedone qua è una mossa che si fa molto spesso nella siciliana anche se è una mossa che per il momento non sta aiutando nessuno dei pezzi del nero a uscire né questo né questo né questo né questo né questo né questo chi conosce la difesa siciliana sa che è molto importante impedire l'accesso alla casa b5 da parte di uno dei pezzi del bianco soprattutto i due cavalli occasionalmente anche a questo alfieri il bianco sviluppa uno dei due alfieri il nero mette la regina la donna in c7 il bianco sviluppa la donna e ora è pronto a fare la rocco lungo la rocco lungo si gioca piuttosto spesso in molte varianti della siciliana col bianco il nero ora sviluppa questo alfiere in di sei questa casa la casa di sei una casa un po strana per l'alfiere perché non è così ortodosso mettere un alfiere davanti a un proprio pedone perché se blocco il pedone di solito blocco anche i pezzi che ci stanno dietro quindi mi sto incastrando i pezzi però il nero qui intende spingere questo pedone o di due o di una e far uscire l'alfiere di qua quindi esistono alcuni casi in cui si può giocare così anche se a voi non lo raccomando però nelle partite dei giocatori molto forti occasionalmente vedrete mosse del genere ma qui è sbagliata comunque vediamo chi di voi riesce a vedere per quale motivo l'ultima mossa del nero è sbagliata togliamo ste freccine qua benissimo vi do due secondi se non vi bastano fermate il video 1 e 2 avete visto cosa deve giocare bianco sicuramente molti di voi avranno visto questa mossa questa mossa è una forchetta però è una forchetta che in uno dei primi video abbiamo definito come la forchetta difettosa perché difettosa perché c'è questo pedone qua è una forchetta tipo vorrei ma non posso perché il cavallo viene mangiato ma il problema del nero è che questo cavallo che è stato mangiato dal pedone ora viene sostituito da un altro cavallo da questo il bianco ha regalato tre punti contro uno quindi il bianco ha speso due punti ma alla prossima mossa ne guadagnerà altre tre perché perché questo secondo cavallo che ha sostituito il primo rinnova la forchetta e dovunque vada questa donna il bianco guadagnerà questo alfiere se questa donna rimane a difendere questo alfiere non gli basta perché non gli basta perché c'è un solo difensore che è questa donna e noi abbiamo due attaccanti quindi noi mangiamo qua dando scacco al re e lui può fare quello che vuole ma noi abbiamo ripreso tre punti il bianco ha investito tre punti in un cavallo e ha recuperato un alfiere altri tre punti più un pedone che era questo pedone che aveva mangiato quindi il bianco ha guadagnato un punto ricordatevi che guadagnare un punto a scacchi è importante questo per qualcuno di voi sembra strano perché perché quando fate i quiz che trovate in giro di solito bisogna dare scalcomatto guadagnare la regina o guadagnare una torre eccetera eccetera ma in partita vi assicuro che guadagnare un pedone fa la sua differenza ok quindi qui forchetta tra virgolette difettosa che noi facciamo funzionare abbiamo costruito una forchetta andiamo a vedere ora un altro tema importante che è quello delle inchiodature relative che si differenziano dalle inchiodature assolute il primo esempio che andiamo a vedere è un esempio mi dispiace un po scontato l'avrete visto un po da tutte le parti però non si può non mettere è quello del matto di legal vediamo come nasce e 4 e 5 cavallo f3 bianco porta un pezzo in campo cavallo c6 il nero sviluppa un pezzo difende il pedone in e5 alfiere c4 noi sappiamo che questo alfiere sta molto bene sia su questa diagonale che punta su questo pedone oppure sta bene in b5 partita spagnola il nero qui gioca d6 che è una mossa che non è una delle mosse principali è giocabile ma le mosse principali per il nero sono o sviluppare l'alfiere in c5 o sviluppare il cavallo in f6 comunque d6 è giocabile il nero il bianco scusate gioca cavallo c3 il nero gioca alfiere g4 o ecco questa mossa qua è una inchiodatura imposta un'inchiodatura che è relativa perché è relativa perché l'inchiodatura assoluta è quella in cui dietro c'è il re quindi il cavallo in f3 se qui ci fosse il re sarebbe paralizzato in forma assoluta a termini di regolamento è vietato muoverlo se c'è la donna il cavallo non è paralizzato a tutti gli effetti il bianco se vuole può muovere il cavallo di solito non lo fa perché perché nessuno vuole perdere la donna ma attenzione nessuno vuole a patto che non ci sia qualcosa di meglio il bianco per prima cosa gioca il pedone in h3 e il nero gioca alfiere in h5 e qui vediamo cosa significa il fatto che un'inchiodatura sia relativa e non assoluta il nero qui è tranquillo e tranquillo che questo cavallo non si possa spostare perché dice se muove io mangio la donna e invece qui il bianco gioca cavallo prende in e5 cavallo prende in e5 qui la partita del matto di legal è famosa perché è diventata famosa grazie a un errore del nero perché qui il nero dovrebbe fare qualcos'altro probabilmente dovrebbe giocare cavallo prende in e5 anziché andare a mangiare la donna mangiare qui perché se ora la donna mangia qui il nero può mangiare qua eccetera eccetera in realtà sarebbe questo scacco il bianco alla fine sta bene comunque ma il nero invece giocò alfiere prende di 1 e qui vediamo il motivo per cui il bianco giocò cavallo prende e5 perché dopo alfiere prende f7 re in e7 vediamo che questo re qui non può andare qui non può andare qui non può andare perché c'è o il controllo dell'alfiere o il controllo del cavallo adesso arriva anche questo cavallo il cavallo da scacco il re non può scappare neanche qui queste e queste sono tenute dall'alfiere questa tenuta dal cavallo e quindi è scacco matto chiaramente il gioco era ampiamente migliorabile anche prima da parte del nero il nero per esempio su pedone in h3 poteva anche giocare alfiere prende f3 il bianco sta bene ma non ha guadagnato pedoni e non ci sono minacce di matto nell'aria basta giocare questa per non prendere il matto del barbiere però il matto di legal è una dimostrazione del fatto che non dobbiamo avere i paraocchi non dobbiamo pensare che un pezzo non si possa muovere per niente soltanto perché dietro c'è un pezzo che vale molto va sempre considerata la possibilità di sacrificare il pezzo che sta dietro se noi andiamo a creare una minaccia pari o superiore e questa minaccia se non ci guardiamo non la troveremo vediamo un altro esempio sul tema altra difesa siciliana e andiamo a vedere un trucchetto che se chiedete ai vostri amici che frequentano un circolo che giocano sicuramente prima o poi in una lampo o in una semilampo l'hanno giocato anche loro e 4 c5 c3 questa è una variante che non è la principale contro la siciliana ma che comunque nel tempo è diventata via via sempre più utilizzata da giocatori a tutti i livelli viene chiamata variante Alapin-Sveshnikov Sveshnikov è il giocatore che a partire dagli anni 80-90 l'ha introdotta con sempre una maggiore frequenza la resa popolare anche a livello di grandi maestri benissimo il bianco vuole mettere un pedone qui al centro in modo tale che se il nero mangia può rimangiare col pedone in c3 e ricostituire la coppia di pedoni centrali il nero ha diverse opzioni a sua disposizione e in questa partita gioca cavallo c6 che non è certamente la migliore il bianco qui gioca cavallo in f3 si può anche giocare d4 ma in questa partita gioca cavallo f3 d6 d4 presa presa e il nero gioca alfiere in g4 inchiodatura relativa come nell'esempio precedente c'è un alfiere in g4 e una donna in d1 questo cavallo sembra paralizzato e perché il nero ha giocato questo? perché immaginava che il bianco volesse scacciargli questo cavallo voi dovete sapere che i cavalli quando vengono scacciati sono i pezzi che soffrono di più il fatto di doversi riposizionare fanno fatica a ritrovare velocemente una casella sensata specialmente se devono allontanarsi dal centro il nero aveva inchiodato qui perché diceva così posso venire qua rimanendo al centro e non ci sono grossi problemi tanto lui non mi può mangiare sicuramente un altro motivo per cui il nero giocava in questo modo è perché sperava che questo cavallo immobilizzato non contribuisse più alla difesa contro il pedone in d4 il nero stava anche attaccando il pedone in d4 quindi il nero gioca questa mossa qua ok benissimo ora i soliti due secondi se non vi bastano fermate il video e poi vediamo chi ci ha preso 1 e 2 ebbene sì anche questa volta bisogna dare alla donna so che a molti di voi dà fastidio a tutti dà fastidio ma se ci guadagniamo ne vale la pena cavallo prende chi di voi ha visto questa cosa ha notato che il re del bianco non ha case di fuga in caso di uno scacco su questa diagonale quindi quando il nero gioca questa andiamo a dare scacco qui e qui purtroppo il nero può parare soltanto con la donna e il bianco rimange quindi in questo momento abbiamo mangiato una donna per uno però dopo questa noi abbiamo il cavallo in presa mangiamo qui forchetta a volte ritornano e lui mangia qui ora altro piccolo quiz che non c'entra niente col tema che stiamo vedendo però ne vale la pena due secondi voi siete il bianco che mossa fate uno e due benissimo se ci avete guardato avete visto che la scelta era fra due mosse era tra mangio qui guadagno cinque punti o mangio qui e guadagno tre punti e la questione è molto semplice non fermatevi all'apparenza soltanto non ragionate una sola mossa alla volta perché se io gli mangio la torre che vale cinque punti lui però salva l'alfiere e il mio cavallo non torna più indietro quindi gli ho mangiato solo cinque punti ma prima o poi sto cavallo verrà mangiato quindi sarà un guadagno cinque contro tre che succede se invece di mangiargli la torre mangio qui gli ho mangiato solo tre punti ma attenzione la torre non poteva scappare quindi gli mangio tre punti più i cinque quindi per fare la scelta più razionale non bisogna pensare una sola mossa alla volta andiamo a concludere ora con un tema che non è tanto sulla questione di tattica di sfruttamento tattico della inchiodatura ma è legato ad un altro aspetto ma un aspetto che è comunque molto importante anche Grazie.